Ciao a tutti amici investitori e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi affrontiamo un tema che interessa molti di voi. È meglio acquistare casa con un mutuo o vivere in affitto. Un dilemma antico quanto il mondo, ma non temete, sono qui per svelarvi la risposta definitiva. Partiamo dal presupposto che, dal punto di vista economico e nel lungo termine, diventare proprietari di casa ha i suoi vantaggi indiscutibili. Pensateci. Pagare 500 euro al mese per 20 anni e poi avere un immobile tutto vostro, o pagare la stessa cifra in affitto e non possedere nulla. La risposta sembra ovvia, vero? Ma non tutto è così semplice come sembra. Andiamo per gradi e confrontiamo le due opzioni. Mutuo vs affitto. La battaglia dei costi. Con un mutuo, affronti spese iniziali più pesanti, come l'acquisto dell'immobile, e poi le rate del mutuo, la manutenzione straordinaria e le tasse sull'immobile. Optando per l'affitto, hai spese iniziali minori, come l'eventuale agenzia, poi c'è la rata mensile e la manutenzione ordinaria. Dal punto di vista del proprietario di casa, mettere in affitto significa guadagnare. Quindi l'affitto che paghi copre i costi della casa e genera un profitto. Al contrario, vivendo in affitto, spesso finisci per pagare più di quanto pagheresti se fossi proprietario. Ma allora, perché l'affitto potrebbe avere senso? A breve termine, i costi legati all'acquisto di casa con un mutuo possono essere proibitivi. E qui entra in gioco la flessibilità dell'affitto. Se il tuo lavoro cambia, se devi trasferirti, se la tua famiglia cresce o diminuisce, l'affitto ti permette di adattarti senza le complicazioni e i costi legati alla vendita di una proprietà. E a proposito di adattabilità, se questo video ti sta piacendo e trovi queste informazioni utili, non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al canale. Il tuo supporto è fondamentale per me per continuare a creare contenuti che ti aiutano a navigare nel mondo degli investimenti. Vantaggi fiscali e bonus, un confronto. L'affitto ti offre alcuni vantaggi fiscali, come detrazioni a seconda del reddito e del motivo di trasloco. D'altra parte, comprare casa ti apre la porta a una vasta gamma di agevolazioni, come i bonus per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e l'acquisto della prima casa. E poi c'è il fattore dei tassi di interesse, che nel 2024 sono piuttosto elevati. Questo rende il mutuo più costoso, suggerendo che, forse, questo non è il momento migliore per prendere in prestito denaro per acquistare casa. E la felicità? Sembra che chi paga un mutuo sia generalmente più felice di chi paga l'affitto. Questo perché, nel caso del mutuo, stai restituendo soldi che ti sono stati prestati per qualcosa che diventerà tuo, mentre con l'affitto, quei soldi sono semplicemente un costo per avere un tetto sopra la testa. Allora, mutuo o affitto? Se stai pianificando la tua vita a lungo termine e sei sicuro che la casa che vuoi comprare sarà adatta per i prossimi 20-30 anni, il mutuo sembra essere la scelta giusta. Se invece il tuo futuro è incerto o se cerchi flessibilità, l'affitto potrebbe essere la soluzione migliore. E non dimenticare, una casa può essere un investimento, ma richiede una pianificazione attenta. Devi valutare molti fattori, come i costi di compravendita, di manutenzione, le tasse e i potenziali guadagni dalla vendita. In conclusione, la scelta tra mutuo e affitto dipende molto dalle tue circostanze personali, dai tuoi obiettivi a lungo termine e dalla tua situazione finanziaria. Spero che queste informazioni ti aiutino a fare la scelta migliore per te. E ora, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo argomento. Hai già fatto la tua scelta? Preferisci la sicurezza del possesso o la flessibilità dell'affitto? Condividi la tua esperienza e il tuo punto di vista, sono curioso di sentire le tue storie. Ricorda, non sono un consulente finanziario, quindi queste riflessioni sono basate sulla mia esperienza e su dati generici. Per decisioni importanti, considera sempre di consultare un professionista. Grazie per essere stato con me in questo video, e non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti. Alla prossima!